Buonasera a tutti. Riprendono le nostre conferenze stampa. I Ministri, il Presidente del Consiglio vi aggiorneranno sull'attività di governo e i provvedimenti approvati in Consiglio dei Ministri. Risponderanno su temi di attualità. Ci sarà spazio per le vostre domande. Vi prego di limitare ciascuno una domanda soltanto. Avremo tempo un'ora. Cedo subito la parola al Presidente del Consiglio. Grazie. Intanto ben ritrovati. Buonasera. Questa conferenza stampa fa il punto sulle questioni principali che il Governo sta affrontando e su cui delibererà nei mesi futuri. Ha già iniziato oggi con il Consiglio dei Ministri di grande sostanza. Alcuni punti sulle questioni principali. Vaccini, scuola, economia, politica estera. Dirò solo poche parole di introduzione perché siamo in tanti proprio per darvi conto del lavoro che il Governo ha fatto e sta facendo. vaccini. La campagna vaccinale procede spedita. Verso la fine settembre saranno vaccinati 80% della popolazione e già oggi siamo al 70% e completamente vaccinato. Quindi sono abbastanza fiducioso. Raggiungeremo l'obiettivo dell'80% per fine settembre che dà ovviamente un grande conforto sia per la ripresa dell'attività produttiva sia per la ripresa della scuola. Sulla scuola poi dirò qualcos'altro. Vorrei di nuovo, mi dispiace ripetermi, ribadire il mio invito a vaccinarsi. Intanto è un atto verso se stessi, è un atto anche di solidarietà verso gli altri, è un atto di protezione della propria famiglia, di tutte le persone con cui si viene in contatto. Ho detto più volte frasi anche più incisive su questo. Continuo a ripetere la necessità di farlo. Mentre dico questo però devo anche esprimere la mia solidarietà piena a tutti coloro che sono oggetto di violenza da parte di odio, da parte dei cosiddetti Novavax. Questa violenza è particolarmente odiosa, pigliacca, quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia. Basta, non dico più una parola perché voglio guardare appunto al lato positivo della situazione e il lato positivo ci dice che la campagna vaccinale è stata invece abbracciata con grande entusiasmo dai giovani. Dai giovani tra i 16 e i 19 anni circa il 70% ha ricevuto almeno una dose di vaccina e quasi metà è pienamente vaccinata. Quindi l'adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette, come dicevo prima, anche di affrontare con una certa tranquillità o certamente con minore incertezza dell'anno scorso l'apertura delle scuole. Ricordate che la scuola in presenza è sempre stata una priorità, la priorità di questo governo. Ricordate quando a metà aprile di quest'anno decisi che bisognava ritornare in presenza accompagnato dalle critiche di molti esperti? Beh, fu un successo. Abbiamo dato un mese in più di scuola in presenza a tutti gli studenti e le studentesse italiane. Quindi ora vogliamo continuare su quella strada. Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Quindi anche su quel fronte siamo pronti. L'applicazione del Green Pass, su cui ora parlerà brevemente il Ministro Bianchi, mi pare stia andando bene. Vi saranno sicuramente casi, e lo stesso voglio dire per quanto riguarda la preparazione concernente i trasporti. Anche su questo Biesto Giovannini dirà qualcosa dopo. Naturalmente vi saranno sempre dei casi in cui ci saranno le fotografie dei mezzi pieni oppure delle cose che non vanno, ma in generale l'impressione è che la preparazione sia stata accurata, ben fatta, che insomma il Governo non abbia passeggiato, come dice qualcuno, durante l'estate. L'altra notizia, l'altro punto su cui vorrei di due parole è l'economia. Come sapete l'economia continua a crescere, cresce anche più delle aspettative, molto di più di quanto ci si fosse aspettati. Basta andare a vedere le cifre che il MEF aveva previsto nei documenti ufficiali a marzo di quest'anno. Quindi anche questo ci dà un po' di incoraggiamento. Il mercato del lavoro va bene, ci sono circa se non sbaglio mezzo milione di occupati in più, l'occupazione in generale non mostra segni di cedimento. Anche lì naturalmente vi sono situazioni riprovevoli per il modo in cui sono state condotte e anche lì il Governo dovrà intervenire in questi casi per casi, ma generalmente la situazione è favorevole, è positiva. Bisogna fare due osservazioni però. La prima è che non credo valga la pena compiacersi troppo di queste cifre, perché è vero che sono alte, è vero che l'economia italiana le vedeva da non so quanti decenni, ma è anche vero che noi siamo caduti, il nostro prodotto è caduto in una maniera che non si vedeva da molti decenni in Italia nel 2020. Quindi questo è in parte un grande rimbalzo che sta avvenendo un po' in tutti i Paesi e chi è caduto di più rimbalza di più e chi è caduto di meno rimbalza di meno. La vera sfida avverrà poi nei primi due trimestri dell'anno prossimo, si vedrà, riuscire a mantenere un tasso di crescita considerevolmente più elevato di quello che si aveva prima della pandemia. È lì che si giudicherà veramente la capacità dell'economia italiana di trasformarsi e di diventare strutturalmente più solida. Ma intanto sicuramente sono buone notizie quelle che vediamo. Il governo riforme. Il governo nei prossimi settimane in realtà ha un'agenda molto fitta. Verranno presentate le riforme della concorrenza del fisco sotto forma di leggi delega. La legge sulla giustizia penale e il Parlamento approderà in Senato tra poco. Quella sul civile si trova in una situazione analoga. In Parlamento vi sarà poi da affrontare il problema fondamentale delle politiche attive del lavoro. Perché? Perché noi siamo in un periodo di transizione, profonda transizione tecnologica verso un'economia sostenibile. E quindi è prevedibile che molti settori dovranno ristrutturarsi, alcuni dovranno rallentare la loro attività produttiva. E per cui bisogna che il governo abbia una visione industriale che permetta di allocare, riaddestrare lavoratori nei vari settori. Ultimo punto, politica estera. Avete seguito tutti la tragedia dell'Afghanistan. Stasera vedrò il Presidente Macron a Marsiglia. Si parlerà essenzialmente di questo. Si parlerà anche però di Europa. Si parlerà di rapporti bilaterali. Si parlerà di Libia. Sarà veramente una conversazione completa, a tutto tondo. Sull'Afghanistan, come ho detto anche in precedenza, ci sono moltissime riflessioni che si devono fare, che servono a stabilire, a tirare le coordinate del futuro. Oggi però è soprattutto sul futuro su cui occorre concentrare l'attenzione e il futuro immediato, che è essenzialmente un futuro in cui dobbiamo impegnarci al massimo in direzione umanitaria, dobbiamo aiutare gli afghani. E il governo italiano, a proposito, devo ringraziare non solo, ovviamente, come ho già fatto, tutte le forze militari che sono state presenti in Afghanistan per vent'anni, ma anche tutto il comparto difesa esteri per la straordinaria opera di evacuazione che hanno fatto. Come sapete, sono riusciti a portare fuori dall'Afghanistan 5.000 afghani che ora sono in corso di ricollocazione in Italia, a cui, proprio perché sono stati coloro che ci hanno aiutato, è stata immediatamente, data immediatamente la condizione di rifugiato. Quindi va, in un certo senso, questa ricollocazione sta andando verso un canale particolare che riconosca il loro contributo a quel che ha fatto l'Italia in quel Paese. Ecco, io ora mi fermerei. Buon pomeriggio. Come ha detto il Presidente Draghi, 78 milioni di dosi inoculate, 38 milioni di persone totalmente immunizzate sono il frutto, da un lato, di una scelta che gli italiani hanno compiuto di credere nella scienza e di tutelare la propria salute e quella dei più fragili facendo il vaccino. Però sicuramente nella gestione della pandemia un fattore positivo è stata la collaborazione che noi abbiamo avuto fra la struttura commissariale del Commissario Figliuolo da un lato, il Sistema Sanitario Nazionale e le Regioni. È chiaro che un ringraziamento lo dobbiamo rivolgere ancora una volta al personale sanitario, ai volontari, a tutti coloro che anche durante l'estate non si sono fermati, hanno lavorato alla cremente per proseguire questa campagna. Ma certo la collaborazione fra la Conferenza delle Regioni e il Governo è sicuramente un elemento molto positivo e dimostra che quando le Regioni ricevono dallo Stato indicazioni chiare, regole alle quali improntare la campagna vaccinale, sono sicuramente un elemento fondamentale per la buona riuscita delle vaccinazioni. Io desidero ringraziare il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e tramite la sua persona tutti i governatori di tutti i colori politici perché noi ci siamo dati l'abitudine di un preventivo confronto politico in conferenza prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri dei provvedimenti che riguardano la pandemia. È successo con riferimento al Green Pass che è stato salutato dalla conferenza come uno strumento per tutelare da un lato la salute individuale e anche quella collettiva, ma dall'altro anche come un elemento decisivo per evitare di tornare a chiudere, quindi per tutelare le attività economiche. Ed è capitato anche con i tanti provvedimenti che abbiamo assunto molte volte accogliendo le richieste delle Regioni. Penso per esempio ai nuovi parametri, sono il frutto di un confronto molto serrato e credo costruttivo all'interno della conferenza Stato-Regioni. Lascio ovviamente al Ministro Bianchi, al Ministro Giovannini illustrare le linee guida sulla scuola e i trasporti, ma certo anche questi provvedimenti sono stati discussi in loro presenza all'interno della conferenza delle Regioni e devo dire che abbiamo superato divisioni che forse non sono mai esistite perché è sicuramente una priorità del Presidente Draghi e del Governo, ma lo è anche dei Governatori, quello di garantire una riapertura della scuola in sicurezza e soprattutto in presenza. E quindi c'è stato anche su questo fronte un'assoluta collaborazione. Diceva prima il Presidente dell'adesione massiccia dei giovani alla campagna vaccinale, ricordo che anche su questo la scelta di alcuni governatori poi appoggiata dal Commissario e da tutte le Regioni di favorire la vaccinazione dei giovani senza prenotazione è stato, credo, un elemento positivo. Peraltro in alcune Regioni ormai, visto l'abbondanza dei vaccini, le vaccinazioni avvengono anche senza prenotazione per tutta la popolazione e questo è un fatto estremamente positivo. Questa modalità di confronto, questo protagonismo della conferenza e delle Regioni in un clima di leale collaborazione con il Governo, ma anche con la protezione civile e con la struttura commissariale, ci auguriamo e siamo convinti che possa portarci all'obiettivo che tutti vogliamo conseguire, quello del superamento del raggiungimento e possibilmente del superamento dell'80%, 85% di persone vaccinate. Quindi io non posso che davvero ringraziare le Regioni e garantire il massimo impegno per portare avanti questo clima di collaborazione per continuare a lavorare insieme per un obiettivo che è fondamentale. Grazie. Grazie Presidente e grazie a tutti voi signori. Ieri 1 settembre tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto, hanno riaperto con il mandato di portare poi dal 13 settembre tutti i nostri ragazzi in presenza e in piena sicurezza. Questa operazione è avvenuta con un lunghissimo lavoro preparatorio, lavoro che risale alla primavera quando avevamo deciso con forza di riportare i ragazzi in presenza. Dopodiché allora abbiamo fatto gli esami, vi ricordo un milione e cento mila ragazzi hanno fatto l'esame di terza media, 570.000 e 540.000 di maturità e di diploma e durante l'estate tutte le nostre scuole hanno lavorato, abbiamo finanziato più di 32.500 progetti che hanno permesso di recuperare un milione e 650.000 ore di lezione di scuole, soprattutto in attività di carattere linguistico, la matematica, ma anche il ritorno del vivere assieme, perché la scuola è anche il vivere assieme e imparare a vivere assieme. Un milione e 650.000 ore abbiamo recuperato durante l'estate. Questo ci ha permesso di arrivare a settembre con una grande voglia e una grande partecipazione di tutti, che si è espressa nei due dati che il Presidente ha dato prima. Il 91,5% del personale si è vaccinato e i ragazzi giorno dopo giorno aumentano sempre di più e soprattutto i ragazzi che fanno i 16 e i 19 anni. Ricordo che tra l'altro il Commissariato farà, il generale Figliolo farà un'operazione di screening per quanto riguarda sostanzialmente il 6-14, in modo da garantire esattamente anche i ragazzi più piccoli. Siamo arrivati a questa fase avendo lavorato moltissimo sul mandato che c'era stato dal Presidente, cioè le persone, gli insegnanti. Facendo i concorsi, quindi neanche, neppure una proposta di sanatoria, ma facendo i concorsi abbiamo messo in ruolo quest'anno 59.000 insegnanti. Per darvi un'idea, l'anno scorso sono stati 19.000, quindi tre volte tanto. Di questi abbiamo inserito 13.908 insegnanti di sostegno. L'anno scorso erano 1.778. Non solo, ma abbiamo già attivato anche tutte le procedure che si concluderanno in settimana per le supplenze annuali. Abbiamo avviato i concorsi per l'anno prossimo, in modo in due anni da chiudere completamente la tematica del tempo indeterminato e abbiamo dato anche, l'abbiamo fatto nel decreto di agosto, anche l'impegno di far partire i concorsi regolari ogni anno per poter sostituire quel turno che sta andando e che abbiamo previsto fino al 2030. L'altro tema è quello del personale ATA. Abbiamo assunto 8.700 personale tecnico-amministrativo e ci stiamo apprestando in questo momento ad assumere anche quella parte di personale di potenziamento che ci serve per gestire le classi più numerose. Frutto di un lavoro lungo, paziente, che i nostri insegnanti, il nostro personale, i nostri dirigenti hanno svolto in silenzio durante l'estate e che io voglio qui ringraziare per dare senso di quanto la nostra scuola sia viva e capace di svolgere quel ruolo fondamentale che sta oggi ancora di più agendo. Le regole sono quelle che voi sapete, quello che c'è stato il CTS, la mascherina, distanziamenti laddove è possibile, quelle regole di igiene fondamentale che noi tutti abbiamo imparato in questo tempo, con un'accortezza a cui noi teniamo molto, abbiamo parlato molto col Presidente, laddove vi siano delle classi in cui sono tutti vaccinati possono togliere la mascherina e quindi si può tornare a sorridere assieme. credo che sia un lavoro importante questo, che va coniugato con l'altro lavoro che stiamo facendo, cioè l'avvio delle riforme, soprattutto la scuola e la scuola tecnica che è e deve essere la parte fondante di quel rilancio economico di cui noi parliamo. Con il Ministro Giovannini, insieme con il Ministro Speranza e con la Ministra Germini abbiamo lavorato moltissimo per garantire anche tutta la fase legata alla scuola, cioè tutto quello che c'è attorno alla scuola. Ma ancora una volta io ringrazio tutti perché siamo riusciti a riportare la scuola al centro dell'attenzione del Paese. Grazie Presidente. Sì, veramente soltanto in due minuti. La situazione epidemiologica nel Paese in questo momento è stabile. Nel mese di agosto c'è stata una linea sostanzialmente attorno all'1 per quanto riguarda l'indice di trasmissione del virus e questo è soprattutto merito della campagna di vaccinazione. Vorrei ricordare a tutti, ormai il mese d'agosto è finito, che abbiamo tenuto in questo mese limitazioni molto, molto leggere rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere nei mesi precedenti. Questo significa che la campagna di vaccinazione è la vera arma fondamentale che abbiamo. La risposta degli italiani in questo momento è molto positiva e molto incoraggiante. Abbiamo superato nella giornata di ieri 78 milioni di somministrazioni e abbiamo superato il 70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo. Il lavoro del Commissario Figliuolo procede in maniera molto positiva, in stretta sinergia con le Regioni e ci porterà nei termini che abbiamo previsto, cioè entro la fine di settembre, a raggiungere l'80%. Noi siamo fiduciosi che questo risultato sia alla nostra portata. Il segnale più bello, lo diceva il Presidente del Consiglio, sta arrivando dai più giovani, dai più giovani sta arrivando un messaggio di grande fiducia, un messaggio di libertà, con un numero molto, molto significativo di vaccinazioni che sono in corso e una percentuale che nei più giovani ha addirittura superato alcune delle generazioni di mezzo. È bello vedere tra i 20 e i 29 anni c'è una risposta molto alta e anche tra i 12 e i 18 anni. E questo ci offre anche un'arma in più fondamentale per la riapertura delle scuole. Abbiamo sin dall'inizio detto tutti insieme come Governo che questa è la priorità assoluta che noi abbiamo, far rientrare tutti in sicurezza e in presenza. E io spero che ben presto avremo un numero molto alto di classi in cui tutti i ragazzi, oltre che gli insegnanti, saranno vaccinati e questo consentirà di alleggerire ulteriormente le misure a partire proprio dalla questione delle mascherine che possono essere abbassate nelle classi dove tutti sono vaccinati. Quindi io penso che il messaggio che dobbiamo ancora dare con forza, con serenità, con rigore al nostro Paese è quello che ci ha attraversato in queste settimane. Cioè che la campagna di vaccinazione, il vaccino è l'arma fondamentale per chiudere questa stagione così difficile per aprirne un'altra. Arrivano dati da ogni angolo del mondo dove le vaccinazioni sono in corso e questi dati ci danno un messaggio univoco, molto chiaro e molto netto che ci dice che i vaccini sono efficaci e sicuri e sono quindi lo strumento essenziale con cui gestire questa stagione. Ministro Giovannini. Grazie. In effetti insieme agli altri Ministri stiamo lavorando da aprile per questa fase di ripartenza. Ieri, come sapete, è partita la fase applicativa delle linee guida sui trasporti ed è operativo il Green Pass per i trasporti a lunga percorrenza. E io vorrei ringraziare i gestori delle diverse tipologie di trasporto ma vorrei dire anche i viaggiatori per il fatto che tutto si è svolto in maniera assolutamente regolare. Vi do un dato. Ieri sera Trenitalia ci ha comunicato che il numero di persone che sono state trovate sprovviste di Green Pass sui treni a lunga percorrenza, frecce, intercity, eccetera, era pari allo 0,2% dei passeggeri, cioè parliamo di poco più di 70 persone. Questo è un dato che appunto testimonia da un lato la precisione con cui si lavora, ma anche l'adesione dei viaggiatori cittadini a queste nuove misure. Quindi un ringraziamento. Come ha detto la Ministra Gelmini, fortissima collaborazione con le regioni, in particolare sul trasporto pubblico locale, visto che appunto da loro dipende la programmazione. Abbiamo definito le linee guida, concordate con loro, validate dal CTS. È una sfida difficile e oggi è la scadenza entro la quale le regioni e le province autonome ci devono inviare i loro piani per il potenziamento dei servizi. È un potenziamento che avviene sulla decisione, sulle scelte dei tavoli prefettizi, che come sapete riuniscono le scuole, ma anche i gestori, i comuni, i gestori delle aziende di trasporto, le regioni, e nel primo semestre, sulla base dei 250 milioni di euro che sono stati utilizzati dalla regione, c'è stato un potenziamento nelle ore di punta del 15-20% dei servizi, per il secondo semestre il governo ha messo a disposizione 618 milioni di euro, quindi oltre il doppio. Valuteremo naturalmente questi piani. Il decreto approvato oggi, che riguarda i trasporti e le infrastrutture, chiarisce che i fondi per i servizi aggiuntivi possono essere anche utilizzati per il potenziamento dei controlli. Nei prossimi giorni ci confronteremo con le regioni sui piani inviati per valutare eventuali necessità ulteriori. Fatemi concludere semplicemente dicendo che dopo il confronto con i sindacati di questa settimana apriremo il tavolo con tutti i firmatari del protocollo firmato più di un anno fa, proprio sulla sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro nel mondo del trasporto e faremo anche un tavolo specifico per affrontare il tema dei rischi che chi effettua i controlli a cui va incontro e sappiamo che purtroppo ci sono stati degli episodi. Quindi insieme al Ministero e agli interni e ai sindacati affronteremo anche questa tematica. Grazie. Ecco, passiamo alle domande. Sicuramente qualcosa andrà storto, però ce l'abbiamo messa tutta. Allora, la prima domanda di Roberto Chinzari del Tg1. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Il Green Pass è stato detto più volte tutela della salute ma anche garanzia delle ripartenze, dell'economia, della scuola e di tutto. Ecco, è intenzione del Governo estendere in qualche modo l'utilizzo di questo strumento anche da altre categorie o si tiene conto magari anche di alcune tensioni, diciamo, dei distinguo anche all'interno della stessa maggioranza. Insomma, per essere espliciti, ieri c'è stato un voto della Lega, diciamo, contrario in Commissione. Grazie. Sì, il Ministro Speranza ed io ne stiamo parlando, discutendo da un po' di tempo. Guardi, l'orientamento è sì, verrà esteso, per decidere esattamente quali sono i vari passi, quali sono gli settori che dovranno averlo prima eventualmente. Faremo una cabina di regia, come peraltro è stato chiesto dal Senatore Salvini, ma la direzione è quella. Alessandro Barbera alla Stampa. Buonasera Presidente, l'impressione della cronaca di vicino afghane di questi giorni, vicino della tragedia d'Afghanistan di questi giorni, è di un'Unione Europea inconcludente e cacofonica. Volevo semplicemente chiederle se l'incontro di questa sera con il Presidente Macron, diciamo, è conseguenza di questa inconcludenza e se è ancora ottimista sulla possibilità di organizzare un G20 straordinario in settembre. Ma scusi, perché c'è qualcuno che è stato concludente in queste esperienze in Afghanistan? Indubbiamente l'Unione Europea è stata abbastanza assente, ma non direi poi che, certo, su certi piani è stata assente perché non è organizzata per questo, ma sul piano umanitario per esempio ha fatto molto e quindi non sono cose da grande notizie. In ogni caso c'è molto da fare. C'è molto da fare, è un periodo in cui si ripensano un po' tutte le relazioni internazionali. Se assistiamo, dopo tutto, per quanto riguarda gli Stati Uniti, a una politica che era stata annunciata già da diversi anni, insomma una politica che vedrà la presenza di quella che è la maggiore potenza mondiale pensata in maniera diversa. Io non credo al ritiro generalizzato, all'abbandono, all'isolazionismo, assolutamente non ci credo, ma evidentemente ci sono delle linee guida, come si dice, per questo impegno che saranno diverse da quelle che sono state adottate in passato. In tutto questo l'Europa deve organizzarsi. Chiaramente non è pensabile che rimanga così. Quindi questo sarà sicuramente uno degli argomenti di discussione stasera col Presidente Macron, ma non sarà l'unico. Per quanto riguarda il G20, io continuo a pensare che si farà. Ora avremo un'altra serie di conversazioni, ovviamente a quella di stasera, con il Presidente Xi Jinping la settimana prossima. Vedremo anche quello che succede alla vigilia dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Quindi in ogni caso avrà luogo dopo l'Assemblea delle Nazioni Unite, perché quello sarà un punto ovviamente di confronto, di scambio molto molto importante. Anche se non è ancora il momento in cui qualcuno può dire ho delle strategie chiare, so cosa fare esattamente. Tutti, dalle grandi potenze alle unioni come la nostra, in questo momento stanno veramente, come dire, parlando molto, riflettendo sul futuro, ma non è che ci siano mappe, nessuno ce l'ha la mappa. Per questo dico che la cosa più importante ora è pensare agli afghani e cercare di aiutarli, proteggere le donne afghane, cercare di essere impegnati al massimo sul fronte umanitario, perché quella è l'unica cosa che possiamo fare ora e di cui abbiamo tra l'altro un risultato immediato, se lo facciamo. Tommaso Ciriaco, La Repubblica. Buonasera Presidente. Torno un attimo sulla questione del voto ieri in commissione da parte della Lega sul Green Pass, come saprà, ha votato contro il parere del Governo disattendendo un patto di maggioranza. Credo non sia neanche la prima volta, lei ricorderà, il voto in Consiglio dei Ministri in cui la Lega si astenne su un decreto in particolare, quindi non è l'unico precedente. Per il segretario del PD, Ricoletta, la Lega si è messa in questo modo fuori dalla maggioranza. Le domando se lei intende tollerare in futuro anche questo tipo di distingue, questo tipo di metodo o se invece accetterà, come chiede Salvini, una cabina di regia per dirimere le controversie. Dunque, la cabina di regia, come ho detto un attimo fa, ci sarà comunque, perché dobbiamo decidere col Ministro Speranza tante cose, tra cui l'estensione del Green Pass. A chi non non se, ma a chi e quanto svelti. Questa è una prima cosa. E poi tante altre cose, quindi la cabina di regia ci sarà di sicuro. Secondo, il chiarimento politico lo fanno le forze politiche. Terzo, è chiaro che è auspicabile una convergenza di una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto, il Governo va avanti. Vincenzo Spagnolo a venire. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Torno un attimo sulla questione dell'immigrazione dei rifugiati afghani. In attesa che l'Europa concluda o decida, c'è un piano italiano, un approccio italiano all'accoglienza che state già mettendo in campo e poi come valuta, lei faceva cenno al senatore Salvini che ha chiesto alla cabina di regia, come valuta queste critiche continue della Lega all'operato del Ministro dell'Interno Lamorgese, se sono un prezzo inevitabile da pagare alla dialettica nella composita maggioranza che la sorregge, oppure se ritiene che cregno attrito dentro il Governo e quindi forse sarebbe meglio contenersi. Grazie. Grazie. Per quanto riguarda i rifugiati afghani, sì, è stato individuato un percorso speciale. Intanto all'arrivo sono stati tutti accolti in strutture diverse da quelle consuete, appoggiate presso la difesa, appoggiate presso il Ministero degli Interni. È stata data loro, come dicevo prima, immediatamente la condizione di rifugiato, il che li equipara sostanzialmente a dei cittadini italiani in tutti i modi e sono stati tutti vaccinati immediatamente. A proposito, la pratica di vaccinazione immediata verrà estesa in generale a tutti i migranti che verranno. Questa è una decisione che è stata presa dal Ministro, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Interni, dal Ministro della Difesa, nelle varie consultazioni che abbiamo fatto. Si tratterà di organizzarla, ma è importante che vengano tutti vaccinati all'arrivo. Dopodiché bisognerà, tra l'altro molte comunità italiane hanno espresso interesse ad accoglierli, quindi io voglio ringraziare tutti coloro che hanno espresso questo interesse, e inizierà un vero e proprio processo di integrazione, come si fa nei casi di coloro che sono arrivati a quello stadio. Quindi in questo caso si è voluto riconoscere veramente l'aiuto che questi profughi, questi rifugiati hanno dato alle truppe italiane in Afghanistan nel corso di questi vent'anni. Ma c'è ancora tanta gente che dovrebbe essere riportata fuori in Italia. Tutti i Paesi hanno cercato di fare il massimo per poterli salvare, ma purtroppo in parte il termine era molto ravvicinato, ma soprattutto dopo l'attentato è diventato veramente difficile portarli fuori. Molti sono per fortuna fuoriusciti, soprattutto in Iran, in paesi confinanti, in Tajikistan e in altri paesi che circondano l'Afghanistan, e le nostre forze diplomatiche e anche quelle di altri paesi stanno cercando ora di recuperare tutti questi rifugiati che sono stati i nostri collaboratori. Per quanto riguarda la Ministra Lamorgese, secondo me, lavora molto bene. Il problema è molto difficile. Io non ho trovato qualcuno che avesse una bacchetta magica e lo risolvesse in un attimo. E i numeri di quest'anno non sono spaventosi. Abbiamo avuto anni molto peggiori di questi. Quindi io credo che la Ministra Lamorgese faccia il suo dovere e lo faccia bene. Grazie. Ora per il giornale Radio Rai, Federica Ionta. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Io volevo tornare sull'agenda dei lavori del Governo. Lei ha citato le riforme complementari al recovery plan, fisco, concorrenza, la giustizia, che abbiamo visto essere temi anche molto delicati per la maggioranza. Volevo sapere se il governo si è dato una tabella di marcia, temi e tempi, considerando il dibattito politico che questi temi susciteranno. Grazie. Sì, direi che i provvedimenti che verranno presentati più presto sono quelli delle leggi delega di concorrenza e fisco. Poi successivamente vedremo la parte delle politiche attive del lavoro e le altre riforme. Non so se mi sono dimenticato qualcosa, perché sono così tante che alla fine... Sì, i provvedimenti che sono già in Parlamento sono la giustizia civile e penale. Poi i provvedimenti che verranno presentati, come dicevo, sono le leggi delega su concorrenza e fisco. E poi ci saranno i provvedimenti sulle politiche attive del lavoro e la riforma degli ammortizzatori sociali. E poi ci sarà la questione delle pensioni di quota 100 e poi qualcos'altro che sicuramente non mi ricordo in questo momento. Per la press c'è una domanda da Antonella Scutiero. Salve, Presidente. Accitatore, il lavoro va avanti un po' da settimane uno scontro a distanza tra il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Innanzitutto se c'è in programma un incontro, magari con entrambi, così li facciamo parlare e a questo punto se e quando affronterete il tema di questo decreto delle localizzazioni. Grazie. Per parlare parlano abbastanza comunque, anche senza che si vedano. Comunque no, se vogliamo facciamo anche l'incontro. Ma stiamo lavorando da parecchio. In realtà ci abbiamo lavorato anche tutta l'estate sul decreto delle localizzazioni. Ci sono varie posizioni. È una norma che è complessa, perché deve essere efficace, deve essere realistica, per cui ci stiamo lavorando. Io credo che non avremo tanto tempo prima di uscire con una norma che è condivisa dal Governo e poi la condivideremo anche con Confindustria e con le altre parti sociali, ovviamente. Monica Guersoni, Corriere della Sera. Buonasera, buonasera. Le volevo chiedere questo. La riporto un attimo alle questioni politiche. Lei dice che il Governo va avanti, nonostante tutto. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, invece guarda alle mosse di Salvini e dice che è l'inizio della fine. Allora, volevo chiederle, lei non è preoccupato davvero della tenuta della sua maggioranza? Glielo dico un po' volgarmente. Non è che ha cominciato a pensare al Quirinale fra sei mesi come una possibilità? Grazie, Presidente. Grazie. Trovo un po' offensivo questo fatto di pensare al Quirinale come un'altra possibilità. C'è tante cose che può fare, perché non fa anche quella. Ma anche un po' offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica. Comunque, a parte l'offensivo, no, non vedo la fine, non vedo assolutamente, francamente vedo ancora una coalizione con le sue divergenze, come ho detto il primo giorno. In Parlamento ci sono provenienze politiche, culturali, personali, professionali diverse in questa maggioranza come lo sono nel Governo. Il Governo va fondamentalmente molto d'accordo nei suoi membri e il Parlamento in gran parte ha fatto uno straordinario lavoro. se lei pensa tutte le norme che sono state approvate da quando il Governo è stato creato e continua, continua a farlo. Quindi io non vedo nessun disastro all'orizzonte e non mi preoccupo per me stesso di sicuro. Buongiorno Presidente, diversi virologi, anzi numerosi virologi, esponenti della sua maggioranza, chiedono l'obbligo vaccinale. I virologi sono esponenti della mia maggioranza? No, ed esponenti della sua maggioranza sostengono l'obbligo vaccinale. Credo anche la Ministra Germini in varie che ultimamente abbia detto sì all'obbligo vaccinale. Io le chiedo, una volta, attualmente non si può fare perché è giudicato un farmaco emergenziale, ma una volta che l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europeo, l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano, avranno stabilito che è un farmaco to cure, come hanno fatto gli americani, pensate che questo obbligo vaccinale possa essere introdotto? Le volevo anche chiedere se va verso una terza dose di vaccino, come accade in altri paesi come Israele o la Germania? Grazie. Sì a entrambe le domande. Darei poi anche la parola al Ministro Speranza, ma è sì a entrambe le domande. Prego. Sì, l'obbligo, tra l'altro, nel nostro Paese è già disposto da norma primaria per quanto riguarda il personale sanitario, quindi in realtà già è applicato ad un pezzo della nostra società. Quindi è una possibilità che resta potenzialmente a disposizione delle istituzioni, del Governo e del Parlamento. Sulla terza dose c'è un confronto in corso proprio in queste ore e questo confronto porterà alla scelta della terza dose. Si inizierà, io credo, già entro il mese di settembre, comunque nel mese di settembre, alla fine di questo mese, e si partirà dalle persone che hanno una risposta immunitaria molto fragile. Questa indicazione, tra l'altro, nelle ultime ore è anche arrivata dall'EMA, dalle CDC, dalle autorità europee, ed è un'indicazione su cui il nostro CTS ha già espresso un'opinione. Quindi la risposta è sicuramente sì. Buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere se il Presidente è a favore del cosiddetto combat force, 5.000 persone in Afghanistan, di cui si parlano oggi i ministri esteri, e se potrebbe essere un punto anche di partenza verso più collaborazione europea sulla difesa, e se si parlerà oggi con il Presidente Macron. Sì, l'emigrazione, la fuga, il salvataggio degli afghani, ha ancora una volta dimostrato la povertà dell'Unione Europea per quanto riguarda la gestione delle migrazioni. Questo ormai è un problema mondiale e l'Unione Europea, unita da tanti principi, da tanti ideali, non riesce ad affrontarlo. E questo è veramente una spina nella stessa esistenza dell'Unione Europea. Quindi ne parlerò oggi con Macron, certamente. Abbiamo avuto casi di Paesi che fin dal primo giorno, io mi chiedo come si possa dire, davanti a quella tragedia in mane, con l'attentato, con i morti, hanno detto noi non vogliamo rifugiati afghani. Non so se ricordate, insomma, come si fa? Va bene. C'è una lega diversa che hai imparato a conoscere con il suo governo, poi c'è la lega di Borghi, io le volevo chiedere, lei si sente più rassicurato dalla lega di Borghi o dalla lega di Giancarlo Giorgetti, del suo ministro di Contenone? Guardi, io cerco di non fare distinzioni nei partiti, perché se vado in questa direzione, ogni partito ha 3, 4, 5, 6 anime e allora prima di decidere ogni cosa bisognerebbe sentire, ogni tanto è capitato, che assicuro non è piacevole, insomma, devo sentire questo, questo e quell'altro. Quindi la lega è una, ha un capo che è Salvini e basta. Grazie. Chiudiamo con una domanda di Laura Cannavò, per favore. Sì, buonasera Presidente. Ritorno un po' anche io sul tema legale, ha detto i membri del mio governo vanno molto d'accordo, il chiarimento politico lo devono fare i partiti, come separando un po' queste due realtà, in realtà appunto fanno parte tutti della stessa maggioranza e quindi lei ritiene appunto che ci siano come due livelli all'interno della sua compagine politica, cioè i suoi ministri e poi i partiti che fanno, come dire, che devono fare i loro chiarimenti politici, chiarirsi al loro interno tra le loro varie anime. E poi è d'accordo a fare un incontro a tre tra la Morgese, Salvini e lei, come è stato richiesto, più volte per chiarire insomma il cannoneggiamento al quale è sottoposta la Ministra dell'Interno dal leader della Lega. Grazie. Sì, guardi, sul primo punto non è una distinzione così netta. Questo governo sta in piedi perché il Parlamento lo vuole. Quindi, l'ho detto tante volte questo, il destino di questo governo, l'orizzonte del governo, la vita del governo, sono tutti decisi dal Parlamento. Quindi, i processi con cui questo governo agisce e quelli con cui il Parlamento decide, sono integrati. Questo non vuol dire che il governo debba fare il mestiere dei partiti come i partiti non devono fare il mestiere del governo. Quindi, se c'è un chiarimento politico, quello è un qualcosa che viene risolto a livello di partiti, non di governo. Per quanto riguarda l'incontro con la Lamorgese, secondo me, esprimo un'opinione personale, perché lo devo chiedere alla Ministra della Lamorgese, secondo me dovrebbe essere un chiarimento interessante, insomma, in cui specialmente la Lamorgese, specialmente Salvini, possono dire esattamente i loro punti di vista. Salvini, cos'è che non va? Soprattutto se quel che non va è raffrontabile a quel che non andava quattro anni fa, cinque anni fa, tre anni fa, ovviamente non all'anno della pandemia, perché lì si è fermato tutto, anche i migranti. Quindi questo è un po'... Ma certamente, se la Ministra della Lamorgese vorrà, si farà volentieri. Magari non in televisione o in streaming. La conferenza stampa si conclude qui. Vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Arrivederci. Arrivederci.